partiti Just Power per un attimo in vantaggio poi è Callitist che passa di slancio a condurre davanti a Boglio Laluna con all'interno Just Power in quarta posizione liberi scatti davanti a mister Macman e carta romana poco prima dell'imbocco della curva Callitist guadagna circa cinque lunghezze nei confronti del gruppo capeggiato da Boglio Laluna che ha scavalcato Just Power che figura in terza posizione con all'esterno liberi scatti quindi ancora mister Macman e carta romana lungo la curva il vantaggio di Callitist aumenta ora sono circa dodici quindici le lunghezze di vantaggio di Callitist che ha creato il vuoto con il gruppo alle spalle che capeggiato sempre da Boglio Laluna quindi Just Power carta romana mister Macman e liberi scatti siamo ora in retta di arrivo Callitist prosegue in vantaggio a quattrocentocinquanta dal palo lo inseguono Just Power con all'interno voglio la luna quindi mister Macman con all'esterno liberi scatti e a largo di tutti carta romana Callitist ai trecento finali ancora a buon margine ed è inseguita dalla compagno di scuderia Just Power nel tratto conclusivo Callitist mantiene nettamente la meglio e si impone davanti a Just Power quindi voglio la luna e mister Macman rivediamo un attimo le immagini di questa quarta corsa di Napoli con Callitist e Samuele Diana in sella numero sette dello schieramento che si è imposto con una audace tattica in avanti come nel suo stile ha vinto bene mantenendo a distanza Just Power con numero due secondo davanti alla numero sei di voglio la luna quindi sette due sei il probabile ed ufficioso arrivo della quarta di Napoli